Oltre mille gli studenti, i docenti, il personale e i genitori che hanno sfilato per il corso di Teramo chiedendo che riaprano le porte del Delfico, quello che per molti era una seconda casa, hanno sfidato la pioggia battente del pomeriggio che nascondeva le lacrime versate da qualcuno proprio a confermare che non era soltanto un edificio ma molto di più. All'arrivo al portone centrale una bara per segnalare la morte di tutti i sogni e di un futuro portato via, una manifestazione pacifica, garbata e appassionata in cui i ragazzi, vero motore di tutto, hanno ringraziato i docenti, le presidi e le istituzioni presenti anche alla manifestazione che si stanno prodigando per il loro ritorno nell'edificio scolastico lasciato lo scorso 3 ottobre. La loro protesta continuerà fino alla riapertura del Delfico. Questa situazione ci ha sconvolti, ci ha sconvolti particolarmente, siamo senza la nostra seconda casa, non abbiamo più un luogo in cui studiare, non abbiamo un luogo in cui vivere, dato che ci passavamo praticamente la maggior parte delle nostre giornate come tutti i bambini, come tutti i ragazzi. Non è normale che si sia verificata questa situazione e richiediamo che soprattutto venga risolta nel minor tempo possibile perché non possiamo stare stazionati e aspettare e sperare in bene, dobbiamo avere qualcosa di concreto tra le nostre mani. Sì, auspichiamo che la situazione si risolva nel minor tempo possibile appunto per tornare alla normalità. Grazie. E avete detto che comunque la protesta non si ferma ma continua? Certamente la protesta continuerà, questo è soltanto l'inizio, si evolverà in questi giorni con diversi scioperi o comunque passeremo gran parte del nostro tempo proprio qui davanti alla struttura del liceo classico perché noi rivolgiamo la nostra casa. Ragazzi che sono stati tolti a una seconda casa, bambini come le sue figlie che appunto si ritrovano in un'altra scuola da un momento all'altro. Non è giusto, come dicevano i ragazzi al corteo non è veramente giusto, non è possibile spostare dei bambini da una realtà come quella del delfico senza tenere conto delle loro difficoltà, delle difficoltà delle famiglie e delle difficoltà della piazza, economicamente parlando e socialmente parlando. Una delle sue figlie ha detto una cosa molto particolare. Sì perché in questa scuola c'è veramente una realtà diversa, ci sono ballerine con i tutù che scendono dalle scale e comunque hanno 13 anni, cominciano ad avere una socialità diversa rispetto a quella di bambini piccoli, quindi osservare gli adulti è un'esperienza molto forte, toglierla da un giorno all'altro è terribile.